Il Carnevale di Fano ha l'avviso un'importante vetrina per promuovere la manifestazione più importante della regione Marte. Siamo qua! Sicuramente è un momento promozionale importante, la vita si attesta a una delle fiere più importanti del panorama nazionale ed internazionale, sono presenti tutte le regioni. Ovviamente essendo proprio nel periodo di Carnevale non potevamo oggi che venire qua con il Carnevale di Fano, per cui ente carnevalesca la musica arabita, festeggiamo insieme a loro i cent'anni. Ovviamente abbiamo pensato di fare una promozione vera, di andare nei vari stand e quindi di promuovere le date del nostro Carnevale, che ovviamente è il nostro folklore e il futuro operator che si promuove.